Che cosa siete venuti a fare qui? Noi chiediamo il trasferimento periodico intermunicipale di Vigilupani ogni tre anni per garantire trasparenza e legalità, trasparenza e imparzialità soprattutto nell'esplodamento delle funzioni come garantito e codificato dall'articolo 96 della Costituzione italiana. E che cosa potrebbe succedere invece se le cose rimanessero come sono ora? Se le cose rimanessero così succederebbe come già succede, come gli eventi di cronaca giudiziaria ci tramandano da tempo, ci riportano da tempo, che alcune cellule deviate dei Vigili Urbani, dei dipendenti del Corpo di Polizia Municipale e dei dipendenti degli uffici tecnici, soprattutto uffici tecnici comunali, possono in qualche modo accettare di omettere oppure di compiere illegalità, magari facendosi corrompere. E noi questo vogliamo evitarlo assolutamente, soprattutto per salvaguardare quelle che sono la maggior parte dei Vigili Urbani, degli appartenti al Corpo di Polizia Municipale, il proprio corpo, salvaguardare l'immagine del corpo proprio contro queste piccole cellule deviate che a questo punto con una rotazione intermunicipale ogni tre anni verrebbe sicuramente debellata almeno la possibilità, la tentazione a in qualche modo infrangere leggi in materia di corruzione e concussione. C'è un parere legale da aggiungere? Beh, diciamo più che un parere legale è un parere dettato dall'esperienza, laddove certe situazioni si stabilizzano e possibile il rischio, come richiamava appunto il Presidente, di deviazioni. Quindi il fine principio della pubblica amministrazione dovrebbe servire i cittadini. Certamente nel momento in cui non si interviene sotto questo punto di vista sia evitare le possibili deviazioni e disfunzioni, ovviamente si viene meno al precetto di cui è l'articolo 97 della Costituzione, secondo cui appunto quest'ultima deve essere orientata nel proprio agire, secondo cui è di imparzialità e di efficienza. Quando intervengono i soldi, tra virgolette, perché quello è il rischio, senza fare tanti giri parole, perché sono uffici che sono ricchi e uffici che sono poveri, tra virgolette, bene, quando interviene questo possibile rischio, se il legislatore o i livelli apicali della pubblica amministrazione non intervengono con misure amministrative nell'ambito della propria discrezionalità a evitare la deriva del fenomeno, certamente c'è un venir meno al dovere che spetta ogni pubblica amministratore. Come è stata scelta la sede della RAI come luogo della manifestazione? Perché questo è l'inizio di una serie di proteste, a questo punto di un anno che abbiamo iniziato le nostre richieste, abbiamo incontrato già il Vice Comandante del Quartone dei Vigili Urbani, che a nome del Comandante Angelo Giuliani, Comandante Generale, ha dato la sua disponibilità, ha detto che è un processo, un procedimento che può essere condiviso sicuramente dai vertici. Da quel momento è iniziata una richiesta di controllo al Sindaco Alemanno, il Sindaco Alemanno ha demandato tutto all'assessore, al personale Enrico Cavallari. Dopo tanti mesi, specialmente per un problema mio di salute, successivamente per altri motivi, comunque siamo arrivati a questo punto. È passato circa un anno, abbiamo incontrato qualche settimana fa Marcello Marrocco, che è il capo sedeteria di Tico Cavallari e dell'assessore Cavallari, che ha detto che quando riguarda lui, il problema non c'è sempre, bisogna avviare un tavolo di concertazione. Dopo circa due settimane, tre settimane, ancora non abbiamo avuto risposte, e purtroppo abbiamo deciso a questo punto che è arrivato il momento di iniziare una serie di azioni eclatanti. Questa è una cosa molto importante perché a questo punto per noi non si può più prescindere da un provvedente di questo tipo che miri a salvaguardare l'immagine dei vicini urbani, degli uffici tecnici comunali, ma soprattutto salvaguardi la legalità e l'imparzialità per con il rispetto assoluto dei cittadini romani. Romani, perché noi adesso lo facciamo qui su Roma, ma questa è una cosa che dovrebbe essere poi nazionale, chiaramente noi ci mettiamo per la legalità a 360 gradi. La cosa importante è che da oggi in poi, comunque, visto che da un anno non è stato attuato ancora questo provvedimento, noi come Italia dei diritti considereremo responsabili politicamente a questo punto i componenti dell'attuale giunta capitolina per quanto riguarda qualsiasi caso di corruzione o confusione che venga in qualche modo individuata dall'autorità giudiziaria sia nel settore dei vicini urbani sia nell'apparato degli uffici tecnici comunali. E che cosa succederà se invece non cambierà nulla rispetto alle decisioni attuali dell'amministrazione? Le nostre manifestazioni continueranno, abbiamo già organizzato una petizione che ha già raggiunto 30.000 firme e poi continueremo sicuramente con il nostro gruppo, il gruppo di sostenitori che è anche piuttosto nutrito, abbiamo 8.600 sostenitori fino a questo punto, fino a questo momento, perciò ci saranno proteste di vari utili. Questo studiando l'inizio, quando riguarda la RAI, inizieranno altri incatenamenti, i sciocchi della fame e tutto ciò che potrà essere utile, sempre in maniera pacifica, chiaramente, legale e civile, soprattutto queste, ricordiamo che noi facciamo battaglie civili assolutamente, secondo il principio, legate al principio della non violenza assolutamente, perciò nemmi nel ledere, mi corregge, penso che mi confermi qui l'avvocato Marinelli che è il nostro responsabile regionale per il Lazio, per quanto riguarda l'Italia dei diritti, però sicuramente le nostre battaglie, la nostra voce la faremo sentire, ma la nostra voce è soltanto la voce dei cittadini, la voce di coloro i quali vogliono legalità, che purtroppo non viene garantita a questo punto dai nostri organi istituzionali, questo ci sentiamo di dire. E qual è invece lo scopo e il significato dell'incatenamento? Lo scopo e il significato dell'incatenamento è che in qualche modo noi addirittura arriviamo a violare un po' il nostro corpo per arrivare a ottenere un risultato di questo tipo, perciò vuol dire che ci gridiamo, ci mettiamo la faccia ma anche il corpo, in questo modo pensiamo di lanciare un messaggio forte ai cittadini che spero ci seguiranno in questa battaglia civile, diciamo una lotta civile, ripeto insisto sempre sull'aggettivo civile perché è quello che è un po' legato al DNA puto di chi fa parte di Italia dei diritti. Grazie.